Ciao ragazzi e ben ritrovati sul canale, io sono Riccardo e come sapete qui parliamo di tecnologia spiegata nel modo più semplice e comprensibile per tutti. Nel video di oggi, come avrete intuito, siamo in compagnia di una power station portatile, in particolare il modello Fossibot F2400, un prodotto molto interessante che offre un rapporto qualità-prezzo veramente incredibile. Ma non voglio anticiparvi troppo, quindi senza perderci in chiacchiere iniziamo con la recensione. Prima di procedere un piccolo disclaimer, come sempre, il dispositivo me l'ha inviato l'azienda per una recensione, io non ho ricevuto nessun compenso economico e in tutti i casi, come sapete, io vi dico sempre quello che penso. Se un dispositivo mi piace ve lo dico, se non mi piace ve lo dico allo stesso modo, perché non vi devo vendere niente. Detto questo, prima di iniziare con la recensione farei una piccola premessa, perché ho visto che non tutti sanno cosa è una power station e a cosa serve. Ecco, per farla semplice, una power station è un generatore portatile, in questo caso da 2400 watt, oppure 2048 watt ora. Questo dispositivo permette di alimentare vari dispositivi elettrici o di ricaricarne altri. È come se fosse un gruppo elettrogeno, quello che normalmente funziona a benzina, ma qui ci sono alcune differenze e soprattutto tanti vantaggi, perché un prodotto di questo tipo è molto più comodo da trasportare, ma soprattutto non fa fumo e non fa rumore. Quindi in pratica lo possiamo utilizzare ovunque, sia al chiuso che all'aperto. Possiamo utilizzarlo ad esempio in camper, in campeggio, in garage o nella casetta degli attrezzi, in una baita, in un bungalow, oppure anche in casa, magari in situazioni di emergenza quando avvia la corrente, o ancora sul terrazzo, sul balcone, oppure per alimentare l'ufficio dello smart working sempre in casa, o semplicemente per ricaricare alcuni dispositivi elettrici o per alimentare alcuni elettrodomestici. Insomma, le situazioni nelle quali possiamo utilizzare una powerstation portatile sono veramente infinite. E in più non dimentichiamo che un prodotto di questo tipo può essere ricaricato non solo tramite la corrente domestica, ma anche tramite pannelli solari che possono essere tranquillamente acquistati a parte. In questo caso chiaramente abbiamo energia elettrica infinita e soprattutto gratuita. E non dimentichiamo infine che un prodotto di questo tipo non richiede nessuna manutenzione, al contrario del classico gruppo elettrogeno a benzina che essendo un motore richiede un po' di manutenzione. Ora detto questo, come funziona questo Fossibot F2400? In modo incredibilmente semplice al pari di tutte le altre powerstation che troviamo in commercio. Non dobbiamo fare altro che ricaricarlo in anticipo o tramite la corrente in casa o tramite i pannelli solari come abbiamo detto prima, portarlo con noi in qualsiasi luogo dove abbiamo bisogno della corrente, accenderlo tramite il pulsante dedicato, collegare ad esso i dispositivi che vogliamo alimentare o ricaricare e basta, a questo punto ci possiamo godere la corrente elettrica dovunque vogliamo, nel totale silenzio e senza fumo o puzza. Detto questo vediamo cosa abbiamo nella confezione di questo Fossibot F2400 e poi vediamo i materiali e il design. All'interno della confezione di questo dispositivo c'è chiaramente il Fossibot F2400, c'è poi un cavo per la ricarica da muro con la spina europea da 220-240 volt a 50-60 Hz, il cavo per la ricarica solare, il cavo per la ricarica tramite accendisigari da auto e le istruzioni. Per quanto riguarda invece il design, questo non differisce molto dagli altri prodotti di questo tipo. Abbiamo a che fare con una power station portatile abbastanza grossa, pesante e non comodissima da trasportare, nonostante le due maneglie posizionate nella parte superiore. Le dimensioni sono di 38,6 x 28,4 x 32,1 cm, mentre il peso è di 22 kg. Come pare potenza. I materiali utilizzati sono plastici, ma molto robusti, resistenti e ben assemblati. Questa power station è davvero solida e ideale per l'utilizzo in viaggio e all'aperto, visto che tutte le porte sono coperte e protette da polvere e schizzi d'acqua. Inferiormente troviamo anche i classici quattro piedini gommati, che rendono Fossibot F2400 ancora più stabile. Contrariamente ad altri concorrenti, purtroppo nella parte superiore è assente il pad di ricarica wireless per lo smartphone, sarebbe stato gradito e utile. Al suo posto però troviamo un utilissimo vano che permette di contenere tutti i cavi per la ricarica, in modo da non perderli. Una soluzione inedita e molto comoda per avere i cavi sempre con noi. Nella parte frontale e sui lati troviamo le varie entrate o uscite per la ricarica, i pulsanti per attivarle o disattivarle. Purtroppo non sono dotati di LED per farci sapere il loro stato, che comunque si può leggere sul display. Abbiamo poi un ampio display che indica la quantità di potenza in ingresso e in uscita, ma anche quali sono le porte attive e l'autonomia residua della batteria, sia in ore che in percentuale. Abbiamo il pulsante di accensione o spegnimento e troviamo anche un'utilissima manopola che ci permette di impostare la potenza di assorbimento durante la ricarica, altra funzione che non avevo mai visto sui prodotti concorrenti. Abbiamo poi una luce LED da 1 Watt, non troppo grande ma comunque molto utile per illuminare gli ambienti, e che offre anche il lampeggio di emergenza. Troviamo poi le varie aperture per le ventole, indispensabili per raffreddare la batteria durante la ricarica o l'utilizzo, che possono essere aperte o chiuse all'occorrenza, proprio per evitare che entrino polvere e sporcizia nella batteria. E vediamo adesso brevemente le caratteristiche e la scheda tecnica di questo prodotto. Come abbiamo detto, la capacità della batteria è da 2048 Watt ora. Si tratta di una batteria LIFE PO4 che riesce ad offrire ancora una capacità residua dell'80% dopo oltre 3500 cicli di ricarica. Per quanto riguarda le uscite abbiamo tre Shuko, quattro porte USB-C, di cui tre Power Delivery da 20 Watt e una da 100 Watt. Abbiamo due porte USB-A da 18 Watt. Abbiamo poi un'uscita da 12 Volt a 25 Ampere, una da 12 Volt a 10 Ampere e altre due uscite da 12 Volt a 3 Ampere. Per quanto riguarda invece gli ingressi, abbiamo la ricarica in CA da 1100 Watt, l'ingresso per la ricarica solare da 500 Watt e l'ingresso per la ricarica tramite accendisigari da auto da 12 o 24 Volt. Un altro aspetto molto importante da segnalare è rappresentato dal fatto che l'alimentatore è installato direttamente all'interno della batteria, quindi il cavo di ricarica risulta molto più leggero e compatto di tutti i concorrenti. Questo di fatto rende questa Power Station molto più comoda da trasportare, visto che i cavi possono essere tutti contenuti al suo interno e sono sempre con noi e soprattutto non dovremo portarci dietro degli alimentatori grossi, pesanti o rumorosi. Per quanto riguarda modalità e tempi di ricarica, come abbiamo visto, ne abbiamo tre differenti. Con il cavo incluso in confezione possiamo ricaricare a un massimo di 1100 Watt in poco più di un'ora e mezza. Con il caricatore da auto si raggiungono i 120 Watt, quindi servono circa 17 ore per la ricarica completa. Con i pannelli solari in teoria sono sufficienti 4 ore per una ricarica completa. È molto importante però ricordarsi durante la ricarica e l'utilizzo del dispositivo di aprire le alette laterali, che sono indispensabili per fare raffreddare la batteria e per il corretto funzionamento delle ventole. Segnalo infine che è possibile combinare la ricarica da muro con quella solare per arrivare a un massimo di 1600 Watt come velocità di ricarica. E chiaramente possiamo ricaricare la batteria mentre lei è utilizzata per alimentare o ricaricare altri dispositivi. Per quanto riguarda la rumorosità, come abbiamo già detto, è assolutamente super super silenzioso. Come abbiamo detto, sono ovviamente presenti delle ventole che servono per raffreddare la batteria, ma rispetto ad altri concorrenti intervengono molto meno e sono molto silenziose. Al massimo della potenza queste ventole raggiungono i 57 dB, quindi praticamente non si sentono. E passiamo adesso invece ad alcune mie considerazioni personali su questa Power Station e alla sua prova sul campo per capire come si comporta nell'uso quotidiano. Prima di tutto devo dire che la sua batteria da 2400 Watt o 2048 Watt ora è una delle più potenti sul mercato e ci permette di conseguenza di alimentare praticamente qualsiasi elettrodomestico. Non dimentichiamo tra l'altro che ha una potenza di picco di 4600 Watt, quindi per qualche istante, ma pochissimi secondi, riesce a raggiungere anche questa potenza in caso di necessità. È chiaro che un prodotto di questo tipo risulta molto comodo per chi deve alimentare dispositivi molto energivori, oppure semplicemente per chi ha bisogno di ricaricare vari elettrodomestici o dispositivi elettrici per parecchio tempo senza dover ricaricare spesso la Power Station. Sono veramente molto comode le tante porte in uscita offerte, che sono ben 13 e quindi ci permettono di ricaricare contemporaneamente fino a 13 dispositivi, quasi un record. Da segnalare anche che le USB-A sono Quick Charge 3.0, quindi molto veloci, e abbiamo ben 4 porte USB-C Power Delivery, 3 da 20 Watt e una da 100 Watt. Anche in questo caso sono pochi i dispositivi di questo tipo che offrono così tante porte USB, ma soprattutto così tanto veloci. Da segnalare assolutamente la funzione di UPS, cioè di gruppo di continuità. Lui semplicemente può essere collegato al circuito domestico e nel caso in cui dovesse saltare la corrente, lui in soli 10 millisecondi fa lo switch e permette di continuare ad alimentare i nostri dispositivi. Un altro aspetto importante è il fatto che la sua batteria sia una LIFE PO4, cioè praticamente la migliore tecnologia oggi disponibile, quella più sicura e quella che assicura una maggiore longevità. Un'altra cosa che ho molto apprezzato è il fatto che sul display si possa leggere non solo la percentuale di batteria residua, ma anche il tempo in ore, così sappiamo esattamente per quanto tempo possiamo alimentare un determinato elettrodomestico. Un piccolo Neo invece è rappresentato dal fatto che lo schermo è molto riflettente e quindi si fatica a leggerlo sotto la luce diretta del sole. Veramente fantastica invece la possibilità di regolare la potenza di ricarica in ingresso. Ovviamente più la terremo bassa, più tempo servirà per ricaricarlo, ma al tempo stesso più riusciremo a proteggere la longevità della batteria, perché come sappiamo la ricarica veloce va un po' a rovinare la batteria, quindi se non è strettamente necessario possiamo abbassare la velocità di ricarica e in questo modo potremo utilizzare la Power Station per molto più tempo. Tra le tante velocità che possiamo scegliere possiamo impostare 300, 500, 700, 900 e 1100 Watt. E comunque lui in autonomia, anche nella modalità di ricarica più veloce, quando sta per arrivare al 100% va a diminuire automaticamente la velocità di ricarica, sempre per proteggere la batteria. Per quanto riguarda invece i test e la prova di questo FossiVolt F2400, l'ho collegato a diversi dispositivi, in casa e fuori casa, e sono stati tutti alimentati in modo impeccabile. Ho collegato lo smartphone, il notebook, il bollitore, il tostapane, la macchinetta del caffè, il phone, il monopattino elettrico, la bicicletta elettrica e non ho mai riscontrato alcun problema. Non sono mai riuscito a metterlo in difficoltà nemmeno collegando e ricaricando tanti dispositivi assieme. Chiaramente la sua autonomia dipende tantissimo da quanti dispositivi collegati e da quanta potenza questi richiedono. Quello che vi consiglio di fare è calcolare quanta potenza assorbe l'elettrodomestico o gli elettrodomestici che volete usare e fare il calcolo rapportato chiaramente ai suoi 2400 watt di potenza o 2048 watt ora. Purtroppo non è disponibile un'applicazione per smartphone per controllarlo da remoto. Non è indispensabile ma alcuni concorrenti segnalano che la offrono. Arriviamo adesso al prezzo di questo prodotto. Come vi dicevo all'inizio lui offre un rapporto qualità prezzo incredibile perché viene venduto normalmente a soli 999 euro che ha già un prezzone ma con il codice sconto che vi lascio qua lo potete comprare a 899 euro che è una cifra che ha quasi la metà rispetto a quello che viene richiesto dai concorrenti. Quindi per un prodotto di questo tipo di nuovo 900 euro sono veramente niente e chiaramente oltre al codice coupon vi lascio anche il link diretto per acquistarlo. E dopo il prezzo come di consueto arriviamo alle conclusioni. Cosa ne penso di questo prodotto? Come ho già detto considerando il suo prezzo di vendita lui offre un rapporto qualità prezzo incredibile. È davvero raro se non impossibile trovare una centrale elettrica portatile cioè una power station che offra una batteria con così tanta capacità prestazioni e funzionalità al suo prezzo ma soprattutto a meno di 1500 euro che è il prezzo al quale troviamo in generale i suoi concorrenti principali. Nonostante un prezzo incredibilmente contenuto questo F2400 offre delle caratteristiche molto interessanti perché ha una batteria potentissima e di ultima generazione. Un design pratico con alimentatore e cavi integrati. La protezione di porte e ventole da acqua e polvere. Un display molto ampio e una bella luce led. La funzione di UPS cioè di gruppo di continuità. Una ricarica velocissima e una miriade di porte in entrata e in uscita delle quali tante usb molto veloci. Insomma di nuovo a questo prezzo ma soprattutto con l'ulteriore coupon sconto di 100 euro è veramente impossibile trovare di meglio. E senza alcun dubbio questa F2400 è una delle migliori power station da comprare oggi. Vogliamo proprio trovargli un neo? Sì sicuramente peso e dimensioni non sono estremamente contenuti ma del resto era impossibile fare di meglio considerando una batteria così potente che troviamo al suo interno. Detto questo io ho concluso con questa recensione se hai dei dubbi o delle domande fatti sentire qua sotto nei commenti io rispondo sempre il prima possibile. Se il video ti è piaciuto o stato utile fammelo sapere con un like a te non costa niente ma per me è fondamentale per continuare a far crescere questo canale e se ancora non l'hai fatto iscriviti per non perdere tutti i prossimi video che arriveranno a breve. Io ti ringrazio ancora per la visione ti saluto e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao da Riccardo